Domenica in Irpini attorno alla Camminata Rosa, settima edizione con le donne in marcia guidate da Carlo Iannaci, il senologo che continua a fare prevenzione tra screening gratuiti e iniziative benefiche per promuovere la cultura della cura e della prevenzione del cancro al seno. L'appello è quello di applicare tutte le norme utili perché la cosa si possa fare in assoluta sicurezza. Abbiamo la possibilità di distanziarci, di portare la mascherina sempre e soprattutto di essere controllati mediante la temperatura e inoltre il Green Pass. Non si sono mai fermate le donne delle associazioni benefiche delle Amdos e delle Amos e quest'anno la raccolta benefica consentirà di acquistare un casco refrigerante da donare al reparto di oncologia dell'ospedale Moscati, strumento fondamentale per dare supporto e sollievo alle donne nelle fasi della chemioterapia. Anche la malattia con fase di covid, in tempi di covid, viene vissuta con estrema solitudine e avere questo tipo di solidarietà da parte di donne che hanno già avuto questa esperienza, portarle avanti in questo modo significa anche darle tanta fiducia. La terapia si fa mediante uno studio e degli approcci multidisciplinari e questo è il segreto del Moscati. E si marcia domenica nel segno della prevenzione del colore rosa, simbolo della lotta contro il cancro al seno di milioni di donne ogni anno. No pink, no power.